Noi con questo festival cerchiamo di ripartire dalla bellezza, dalla cultura, dall'arte affinché si possa costruire un modello di educazione differente. Educare, coltivare, fare arte, informare e accogliere. Queste le parole chiave del Festival Armonia che si sta svolgendo a Cascina Caccia, bene confiscato la famiglia andranchetista dei Belfiore. Nella seconda serata del Festival il rapper napoletano Lucariello ha portato la sua musica di denuncia con la quale ogni giorno prova a costruire narrazioni alternative a quelle imposte dalla Camorra. Le organizzazioni criminali hanno anche un loro ministero della cultura per intenderci, quindi loro utilizzano la cultura proprio come mezzo per creare un ambiente dove anche le cose assurde in realtà diventano normali, diventano qualcosa che in qualche modo è giustificabile. Invece quello che stiamo anche cercando di fare giù a Napoli in particolare è quello proprio di riuscire a creare anche un sistema di comunicazione diverso. La lotta alle mafie si gioca innanzitutto sul piano culturale, il riutilizzo sociale dei beni confiscati è una delle armi più importanti. Questa Cascina è il simbolo di una lotta, di una ricerca di giustizia, di una lotta alle mafie, di una lotta alla violenza e di una lotta alla criminalità. In questo senso, secondo me, è anche il richiamo e quindi come simbolo è un richiamo forte a un altro pezzo di giustizia che non è solo che riguarda solo la punizione del colpevole di chi ha fatto del male, ma è una giustizia in qualche modo che porta con sé un significato di restituzione e di riparazione. Cioè questo è una Cascina che viene data a un territorio che se ne appropria per fare una serie di iniziative, iniziative che riguardano il collettivo, non l'individuale. Un collettivo che sappia conquistare la bellezza. Secondo noi è una scelta sistematica quella dell'abbruttimento, quella del toglierci la bellezza e restituircela solo sotto pagamento, in qualche modo di gestirla. Quindi noi vogliamo tornare a gestire autonomamente la bellezza, a riappropriarci di tutto quello che non solo è bellezza ma è armonia, come abbiamo intitolato proprio questo festival, proprio perché riteniamo che sia un atto di liberazione. Nella serata conclusiva del festival, il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, insieme a Paola Caccia, all'orchestra di voci bianche Pequegnas Wellas, ricorderanno una figura del procuratore Bruno Caccia. Il modo migliore per trasformare la memoria delle vittime di mafia in impegno.